Ma questi... Tu quale vuoi? Guarda! Te quale vuoi? Ragazzi ci siete? Ciao! Sì! Aspetta però! Aspetta! Ciao ragazzi! Ciao! Se avete seguito i nostri profili in questi giorni lo saprete già! Ma per chi non lo sapesse, ecco cosa è successo! Netflix ci ha invitato a fare un ciclera tanta! Assegnandoci un amico o amica a cui fare il regalo! Ognuno di noi l'ha comprato! E ora siamo qua per aprirli e vedere cosa ci è toccato! Senza sapere da parte di chi ovviamente! E allora buone feste da noi e da Netflix! Vabbè ragazzi direi che ci siamo! Cioè abbiamo i vestiti Natale, ci abbiamo comprato i regali! Possiamo iniziare! Io direi che sì! Viaggio? Ah! Allora! Sono in comprensione! Viaglino! È una cosa piccola comunque! Ma che è? Non sa che perché! Non sa che però vieni! Dall'esterno arrivano messaggi! Allora! Leggo! Rispondi a questa domanda e avrai un indizio su chi ti ha fatto il regalo! Se Diari fosse stata... No! Sì! Se Diari fosse stato un horror, come sarebbe cambiato il finale? Prende la domanda! Tutti morti! Tipo un video! Tranne uno! Tipo Shining! No il vidello! Il vidello è il film! Il vidello è il film! Allora se tipo di un'altra occupazione entrano e lo facciamo entrare e... E... Un altro! Un altro messaggio dell'esterno! Sì! Sì! Quanti vuole fare aprire il colpo! Indizio per il viaggio! Fiore preferito! La calla! La calla! La calla! Quella bianca con il giallo in mezzo! Sì! È quello! Sì! Cosa? Non ho capito! La calla è la calla! Sì! È un indizio sulla persona che ha fatto il regalo! Complimenti al fiocco! Complimenti al fiocco! Bello è l'altro! No però aprivo per me! Oh! Ecco lei! Calma! Allora! Deve essere un po' più... Delicato! È esatto! Oh! Ma! Ehm... Un... Non guardate che arrivano gli piedi? Com'è? Ah beh! Ce la fai che ti suscriverla! No! Non ce la fai! Non ce la fai che ti suscriverai! Non ce la fai che ti suscriverai! Quindi io direi buon... Ah! Ah! Ma rica! Vabbè è carino! È dal su! Ah! Ecco! Oh! 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 È arrivato da su! Da su! Da la 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 la! Chi era quello che sul set si distraeva di più? Beh! Eh! Eh! Perché come viagge? Vabbè! Sì che esiste! Vai! Vabbè! Sì! Vado eh! Vai! Sì! Vabbè! Inizio per Flavia! Inizio per Flavia! Non sono della vergine, dello scorpione e dei pesci! Sei un panettone ne ne vado! Ah! Ah! Ma in effetti io ti dico... E perché per un panettone? Ma che cavolo è? E perché è un panettone? Vabbè aspettiamolo! Vedete! Cos'è? No! Oddio no! Rosa! Le orecchie! È un pochino! 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 Ma no! Vabbè io non ne ho idea! Come te! Ok! Vabbè vai! 2 a 0 per chi ha fatto i regali! Vabbè vai te così senza chiedere! Beh piccolino! Vai! Dici qualcosa che i tuoi non devono sapere! Non ti dite! Mamma no! Mamma non guardare! No vabbè! Vabbè te scopi qualche cosa! T'hanno salvato! No! Diciamo ho scelto un po' il linguistico per un ragazzo ecco diciamo! Iiii! Che i miei non lo sanno! Cioè lo sanno! Ora lo sanno! Non ho mai sciato o ho fatto nessuna attività sulla neve! È proprio... Si è girato bene! C'è! 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 Un altro pacco nel pacco! Sì che ma sono che mesonati? No no! Sono bombolette per spray! Io direi che adesso... Bombolette per spray! Ma per i capelli? Per i capelli? Per i capelli! Io direi che ce lo fai adesso! Che colore? Che colore? Vabbè! Che colore vuoi fare? Aranzione e blu! Ah so! Lo posso fare? Lo facciamo? Lo facciamo dai! Lo facciamo! Ti dico che te lo sai io! No Andrea calma! No no! Non tutta la testa! Ti vuole... Occhio! Occhio a questo! Aspetta aspetta! Fermo fermo fermo! No Andrea! Prendi una piccola forza però! Oh oh! Ho saltato! No ma non lo salti! Ma dai! Dai! E così! No! Fermo! No! La delicatetta! Brava Flavia! No no no! No no no! No no no! No no no! A chi tocca? Chi lo vuole! Dai Liana! Le lancio pure il regalo! Ceri? Allora! Vediamo qua! Capi di blu! Il tuo! Guilty prayer! Dice così? Sì! No! Ti fa mangiare così! No! Dai! Senti male! No! Tu lo fai? Ah! Non so se è guilty pleasure! Dai! Quando faccio parannuoto! Mi piace fare una doccia freddissima! Che cosa? E poi lo spruzzo ai miei compagni! E ti fai ridere questa cosa? No! Perché l'acqua... Io mi stavo dicendo se faccio la pipina! No! Ma l'acqua fa... Cioè fa male! Cioè non male! Però... Va bene! Abbiamo capito! Va bene! Non ti preoccupare Liam! Va bene! Ok! All'inizio! Va bene! Va bene! È carta! È carta ragazzi! Grazie! Oddio! Indizio per Liam! Vediamo! Essere... Andate! Perché non possono farti capire se è un maschio o una femmina! Ah! Ok! Al linguistico! Solo perché lì c'era un ragazzo che mi piaceva! Eh eh! Ora però mi trovo molto bene! Ah 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 ah! Ho un video! Anche io! Ah se... Al linguistico! Chi va al linguistico? Ho qualcosa da dire! Che chissà! Non te lo possiamo dire! Ma scusami! Ma se dovresti ricordarselo! Memoria per voi! Non mi guardo! Vabbè! Vabbè! Non parliamo la spalla! Vai! Pio the Thunder! Pio the Thunder! Oh occhio! Pio the Thunder! Che è un... Un'agenda! Un diario! Un'idea! Chi potrebbe... Sì! Aspetta! Un'agenda! Oh! Un'agenda! Leggilo! Un'agenda! Non riesce a te! Un'agenda! Un quaderno dove potrei appuntare le mappe con tutti i quadri! Ah ok! Sa qui! Un'agenda! 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 Vabbè lascio qua! Ho un'idea! Ho un'idea! Ho un'idea! Allora! Oh! Film o serie preferita del catalogo Netflix? Vabbè! Una serie che ho visto recentemente è Tutto Chiede Salvezza! Quella è bella! Quella è bellissima! Quella è molto bella! Quella è bella! Ci gusta! L'inizio! Ah! Questo è l'inizio della persona! Sì! Ah! Che ti ha fatto regalo! Allora l'inizio perché? Ce l'abbiamo fatta a capire no! Adoro la pasta da quando ero piccolo! Beh! A chi è che non piace? Siamo stupendo! Un panne! Un panne! Un panne! Un panne! Arrivo eh! Giuro che arrivo! Te la prepara? Molta natalizia! Molta natalizia! Una scatola! Ma che ne sai? Tutte scatole dietro scatole! Nooo! 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 Guarda la scritta! Aspetta! Nooo! Vinciamoli! Vinciamoli mondiali! Fai vedere! Non so chi l'abbia fatto ma è un genio! Ma che mondiali? Scusa! Nooo! La canzone! Allora! Allora! Viaggiamo sull'altro! Del liceo in cui sono ora? Sì! Sono diversi! Ovviamente! I professori delle medie con i professori cambiano! Cioè! Però! I ruoli all'interno della classe dei miei compagni sono simili! Tu sei dietro? Sì! Sul pietro! Mi ha dato carina! Inizio per Andrea! Maledetta preferita di quando eri piccolo! Viola con un pinguino con la corona! Non è vero! 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 Maledetta preferita di quando eri piccolo! Viola con un pinguino con la corona! Non è vero! Posso scartarsi? Sì! Ebbè! Deve essere proprio... Ma l'hai distrutto! Nooo! Cos'è? Una moto! Vabbè! Nooo! Esatto! Ma... Te lo giuro! Io pensavo... Ma a me mi hanno preso un quaderno a te la moto! Ragazzi! Dove essere un cinghiale! Avevano un attimo sbagliato! Perché è un cinghiale? Eh! È un gassare! È un cacciatore! È un cacciatore! Perché vive tra cinghiali! Ah! Eh! Sì! È pure simile alla mia moto! È proprio la sua moto! È andando! Ma la prossima volta mi fa... Un video di Aria che fa i moto! Sì! È un gran regalo! Un gran regalo! Questo è un gran regalo! Oh! È gigante! È una tavola da surf! Ma che cos'è? Questi sono gocci! È una domanda! Questa qua! Questa è la domanda! Ok! Dico il primo piano! E il lupetto! Eh? Che ne pensi... Allora... Che ne pensi del fatto che in Giappone uscirà un anime sul diario? No! Non è vero! È vero! Ma davvero? Non è vero! È finto! È finto! No! Ce l'avevo creduto! Ma che sarebbe stata una cosa bellissima! Dai! 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 Inizio! 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 Per Francesca! Oh! La materia che copiavo di più era storia! Beh! Storia si copia! Storia si copia! Storia si copia! Ah! Cos'è? Vabbè io questo lo... Ma sono... No! Io questo non so! No! 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 Lo devi fare! È scritto! È scritto! Perfetta! Vai! Vai! Ma è serio! Non ti regaloppare! Non ti regaloppare! Non ti regaloppare! È bellissimo! Una pronta a Francesca! No! È bellissimo! No! Però è bellissimo! Però è bellissimo! Vabbè! Ti piace? Sì! Mi passerò la paura per i cavalli! Hai paura dei cavalli? Sì! E adesso... Tocca via! Ti odio veramente! Dritto! Allora! Sì! Se la puoi fare! Visto che in diari hai salvato la scuola di basket... Vediamo quante ne sai! Chi è l'unico italiano per vinto un titolo NBA? Ehm... Non lo so! Ne sei mostro di basket? Sto per fare una caffa? Non lo so! Vabbè! Ne dubbio di Michael Jordan! Non penso che Michael Jordan può essere italiano! Non lo sai! Non lo sai! Non lo sai! Però James nemmeno! Quindi... No! Non lo so! Mi gioco il jolly e non rispondo! Secondo me mi danno l'indizio solo perché dà! Comunque! Indizio per Sofia! Odio i peperoni più di qualsiasi cosa! Che c'è che io! Ok! Lo so! Ma sai che non piacciono neanche a me? Però non mi viene in mente nessuno! Me lo avevamo detto! Ma non mi ricordo! Io vagamente mi ricordo però! No! So! Forse ho un'idea! Ok! Ci sto! No! Avete capito il tirannemente? C'è! Tranne in te! Tranne in te! Lasvia! Stacca! Brutti! Voglio essere delicata! No mistakes! Only happy actions! Ma cos'è? Questa cos'è? Questa è una romma! Questa cos'è? Sofi per cancellarti! Per cancellarti! Sono cannucce! Questa è una penna! Carina! Sono cannucce? Si! Fatto pare! Di vetro? Spero che puoi riusarli! Perché noi sosteniamo le tartarughe! No! Sono cannucce di vetro! Save the turtles! Save? The turtles! Ah! Le tartarughe! Assurdo! Potevi dirlo in italiano e hai deciso di dirlo in che! Comunque! Vabbè! C'è un'idea o no? No! In realtà forse sì! C'è una persona che... No! In realtà forse sì! No ma sì! Dai! Andiamo avanti! Vabbè io direi che ora siamo tutti quanti a bastanza curiosi no? Però insomma prima il secret santa deve rimanere secret no? No! Ma il punto è il punto è secret però poi lo dici! Eh! Sì! 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 Non mi interessa! Comincio io? Grazie Flavia! Cioè tu subito lo dovevi capire! Le cannucce! Eh! Le cannucce! Le cannucce vi cazze sempre che voi prendete le cannucce di plastica! Le cannucce di plastica! Le bar! Adesso hai le tue cannucce di vetro! L'ambientarista! Eh! L'ambientarista! Bravo! Ma l'indizio era che a lei mi piace! Ah beh a te quindi? Chi pensi che l'abbia fatto? No io in verità... Cioè io mi stavo un po' affidando all'indizio! Ehm! E quello all'indizio? Io li so i vostri segni zodiacali! Eh! Quali? I candidati possono essere uno, due, tre, quattro, non... Io, Andrea, Liam... Però ho visto che Andrea ha riso parecchio quando ho letto l'indizio! Sei tu? Sei tu? Sì, sono io! Eh! Perchè sto... E la spiegazione? Cioè spiegami se... Cioè c'è un motivo oppure hai visto un maiali che l'hai regalato? Eh no, eeeh... Cioè... Cioè... Stai proprio... Hai un po' di confusione! Non ero veramente confusione! Posso sapere chi mi ha regalato la moto? Eh! Vi indovina! Vi indovinare! Prova a puntare il dito! Lui no! Lei non può essere? No, sì! Vabbè, io dico... Pietro! No! No, no, no! No, no, no! No, no, no! Try again! No! 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 Tu? No! Come? Tu? E' nato tu? No! No! Adesso ho visto le tue foto della moto e ho detto ad Andrea che è sotto questo... Ma... 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 Ma sì... Una mini moto? Scusate! E' uguale alle tue! Cioè è fatta bene fissata con questa moto! Ci vorrà sospensione! Eh! Tu c'avevi una manetta con un pinguino e io... Esatto! Io sì! Ma quando? Ma chi ne sapeva lui? Ma lui lo sapeva? Vai Fede, tu che pensi che sia... No... Non ho idea! Non ne ho idea! Perché se lo scopro mi metto rimani adesso! Ehm... Non lo so... Mi verrebbe da dire... O viaggio! Eh... Non lo stai facendo? Eh... O te! Pensavo... Ma... Ho un pietro! Effettivamente sì! Le hai fatti tu? Gli hai grado di dire? Corri! E invece la maglietta mitica? Eh... Il cerchio si stringe! Eh... Si stringe! Sofì! No! Viaggio! No! Ma sì! Perché io ricordavo la prima volta in cui lui mi ha mandato il video in cui provavo questa canzone... Non lo ricorda? No! 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 Facile! No! 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 Ma tu hai un'intuizione! Quello che è Babbo Natale! Perché mi hai fatto questo regalo? Perché è uno gnomo! Io come ti chiamo su Whatsapp? Dai! Io l'avevo capito dall'inizio! No! Sei un genio eh! Sveglia ragazzo! Beh... In Italia rimango io! No! 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 Vabbè... Io... Allora... Io già... Penso che ho indovinato! Cosa? Ma indovinato la prima trucca! Ah no! Vabbè... Il mio... Quindi... Dovresti sapermi! Ma l'ha detto prima! Dovresti sapermi! Io l'ho detto prima! No! Lui ha detto prima! Lui ha detto prima! Lui ha detto prima! Lui l'ha detto! Ho sentito linguistico per un ragazzo! Ho sentito linguistico per un ragazzo! Ecco! E vabbè... Comunque grazie per il regalo! È molto carino! Ahahahah! Prego! Vabbè... Perché io ha fatto... Sembra che mi stai congedando i parenti il 26 dopo Santo Stefano! Grazie per il regalo! Molto carino! Non ce ne ho la loro assunta! No ma... Me lo potrevi regalare! Simpatico! Beh... Secondo me... La maglietta... Vincio su tutti! Posso chiedere? No! Ma... 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 Spesso chiedevo! Puca... Uhhh! 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 Vabbè regà... Dai! Uhhh! Uhhh! Pesso ti ne scoppiamo per adesso? No, queste cose non le mettete! Cioè io non voglio vedere la mia faccia che si scompa all'interno! E waspuglio lui viene male? Uhhh! 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 Insomma ragazzi, per queste feste mi raccomando, divertitevi, state in famiglia, mangiate e fate regalare le persone chiamate! Infatti compiti. Andate a patinare. Mangiate pandoro e panettone. Pandoro e panettone? Pandoro. Pandoro. Ma il panettone con cioccolato? No, non possiamo la mano. Il notale è pandoro. Quindi ragazzi, buone feste da Netflix Features Italia e anche da noi, cioè la seconda D. Più che seconda, ormai saremo la terza D. In effetti. Buone feste. Buone feste. Ciao. Buone feste.